Del Grosso, c'è il Livorno ed è una partita molto importante, classifica alla mano per rimanere lì nelle zone alte, sei d'accordo? Esatto, sì, è una partita insidiosa, loro giocano in casa, si sono fermati una settimana in più, però non so se sia negativo o positivo per loro, noi ci siamo preparati bene come sempre, cercando di andare a Livorno per fare punti. Tu ne hai fatta tanta di Serie A anche a alti livelli, come si ferma un giocatore importante da Serie A come Diamanti? Gli devi stare sempre un po' a pressione perché se gli lasci spazio lui ha una visione di gioco importante e quindi può essere pericoloso per qualche assisto addirittura su tiri da fuori, quindi bisogna fermarlo, cercare di arginarlo nel miglior modo possibile, ma noi ci siamo preparati bene. Parliamo della tua stigione Cristiano, perché sei stata una grandissima sorpresa, è chiaro il tuo valore si conosceva già, però la continuità di rendimento, come hai dimostrato l'attaccamento alla maglia, è davvero una bella sorpresa? È quello che ho sempre fatto e diciamo che è quello che mi ha contraddistinto, comunque un giocatore che dà sempre tutto quello che ha e tornando a Pescara è chiaro che questa cosa forse la sento ancora più mia, diciamo, di dare ancora di più di quello che posso riuscire a dare. Si è anche cancellato qualche anno dalla carta d'identità. Magari. L'ultima Cristiano, in questo periodo si parla tanto di mercato, a te la cosa non ti riguarda perché stai e resterai a Pescara, però sai una proposta di rinnovo ti potrebbe far piacere? Magari, sì, io sarei veramente felicissimo continuare e cercare poi alla fine di chiuderla qui la mia carriera, che guardando indietro sono contento di quello che ho fatto e cercare di chiuderla a Pescara è il mio obiettivo e speriamo possa essere così. Magari in Serie A. Beh, quello certo. Magari. 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 Magari.